Attenzione sta per cominciare! K-Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Rhyman 3 Stiamo andando molto a rilento ragazzi perché ho un po' di problemi con questa serie Infatti non so quando vedrete questo video Perché il registrato da computer per me è diventato rompiscato Oh, qua sentiamo Mi piacerebbe molto L'Iknaren Abbiamo capito che questi livelli del deserto dell'Iknaren Io ma qua vorrei capire se si può fare qualcosa Ma che cavolo? Merda Mi vogliono far restare Sono circondato Nooo Oh, qua stanno un bel po' di ponti Scusate ma io devo prenderli bei fantasmini Bei? Insomma siete pur brutti però Mi avete buttato nelle catacombe Mi chiedo se qua ci sia qualcosa No Ok Oh State a vedere adesso Oh, qua giù c'è un Qua c'erano dei sassi finti, vero? Sì Qua per esempio ce n'è uno Qua li possiamo far crollare in anticipo, no? Non crolla Non crolla Sai, io credevo crollasse Vabbè comunque scendiamo giù perché serve Prendere i bei puntoni Non mi rompere le palle Chi è che vuole? Ho sentito qualcosa? No, credevo fosse Qua i fantasmi escono all'infinito ragazzi Ma è normale Io so Ah ecco, vedi, 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 vedi Ci sono le sorprese Ehm Com'è che era qua per visualizzare? Ah, con triangolo era Sì, 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 sì Ciao amico Sono tanti bei puntoni per me Bene Allora, praticamente bisogna portare questo affare Dal giusto percorso Evitando quei massi che cadono Qua accade, vero? Via Qua accade Oh, è là? Non l'avevo visto No, attenzione qui Eh, se vabbè La puttanata Si doveva fermare e lasciarlo Invece no, lui deve cadere Perché lui è diversamente disabile Diciamo Che cosa sta? Qualcuno sta a vedere qua, no? Abbiamo fatto una puttanata ragazzi Un attimo solo che vado a rimediere Allora, non è quadrato Quelle tasto è? Non mi ricordo Cerchio Perfetto Oh, mo, per prendere sto smeraldo Boh, come si fa? Merda Come si fa? Come si fa? Mannaggia Siamo finiti in un lago In un fiume Ah, di caccole qua Di schifissi Ah, vedi Forse di là Proviamo Oh 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 Let's see this What the fuck is this? Guarda un po' L'ira di Dio stava qua dentro E qua? Mamma mia Quanti bei puntoni Bella sta stanza Prendi 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 tutto Rayman Vai Rayman Oh Oh, l'ho detto in maniera diversa Dai Un altro Ma guarda Ok, da qua è da dove eravamo arrivati Quindi vi ricordate di qua Quindi chissà se si può andare No, non si può Si può andare di qua Vediamo Ah, no Ah, vedi Non fa andare di qua Da dove sono arrivati i tipi Dai guardi Spero che non stiano alla fine del corridoio Ah, ok Perfetto Spariscono poi a un certo punto Si annoiano e L'importante è qua Ecco Complimenti Rayman Il bagnetto della La merda Ce lo siamo fatti Oh, chi è che è sbraita? Soccorso Sempre questo orso In mezzo Oh, è quello? Si, aspetta un attimo Giovane Amutimbo Ecco qua Oh Vai Devo andare a rifarmi l'orro? A rifare che? Non ho sentito Con la O Ho detto Oh, qua è chiuso Dopo la morte di Ursula Mi sento così solo Più nessuno da stringere fra le braccia Nessuno da amare Bah Qua c'è un trucchetto Con cui ci si può mettere qua sopra E non E il coso Diciamo giù Crolla Ma voi non cadete Però noi ci dobbiamo buttare per forza Ragazzi Buttati Ah Guardate ora Altric Naren Spostatevi Emi Fai la risveglia Straniero Bene Mi piace la risveglia Il nostro cervello è più buono Ora vedremo come te la cavi Nell'arena del destino Oh Mo' siamo stati sfidati dal boss Attenzione ragazzi Nell'arena Questo è uno dei combattimenti più epici Di Raiman 3 Ehi Raiman Sono qua Ecco Globox Silenzio Cucu Ho detto silenzio Ma è il mio amico Vuoi stare zitto Stupido Raspa Reflux È il mio campione E nessun claren L'ha mai sconfitta Credi tu Che un aborto smembrato Possa sfidarlo Aborto smembrato Ecco ciò Sono certo Che il tuo amico Brillerà Nell'arena Quando Reflux Gli darà fuoco Che incominci La lotta Reflux Reflux si chiama Io ancora devo capire il nome Oh guardate un po' Praticamente questo tipo Quando sta in questa forma È invincibile Mo' bisogna Mettersi Aia Fare questo giochetto Che Ecco Vi ritornate ogni volta sul posto Questo combattimento durerà un po' Dai dai Stancati di girare Non mi prendi Io non mi faccio fregare Oh eccolo Ora bisogna Colpire il bastone La pietra che è stato il bastone Ah Ancora Cornuto Oh Mo' qua è pericoloso Ah Oh Ah Ok Ok Si è fatto un po' male Oh Non ho mai capito Se si può fare qualcosa In questa parte Sinceramente Si annoia? A posto Mi volete farla voi eh? Oh Oh Guardate ora che fa Aia Oh Quelle palle Oh Non riesco ad evitarle Le palle evitabili Vieni refluxo Come cazzo ti chiami tu Dai Che fai ora? Ma perché ste maledette palle Di merda? Meno male che c'ho la vita Qua giù Eh no Mi hai fatto Scanzare Beh Non è ancora a metà eh ragazzi Vi provi a capire com'è difficile il combattimento Oh E vaffanculo Giro giro Tom Do Quando sei stupido Tu Che fa? Giri ancora? Mi prendo in giro Come suol dire Che fa adesso? Ah guardate Mo si incazza Fa cadere i meteoriti dal cielo addirittura E mo diventa complicato Perché se cammino sulle fiamme Mi faccio male Ah Io ho bisogno di vita Grazie Hoppola Come te lo Come ti freco Guarda Oh Oh Vieni Che cosa vuoi fare? Tozzone lurido Non me ne frega un cazzo di te Delle tue palle gialle Palle gialle Sembrano quelle dei Simpsons O quelle di Dragon Ball Ah All in All in All in All in Vai Che fai mo? Ah merda Ah si può colpire anche normale Non lo sapevo Però gli faccio con più danni Oh che fa? Si incazza No grazie Ancora devo capire Cosa le causa lui Praticamente Mo ancora più fiamme ci sono Ragazzi Dai che c'ha poca vita Il zorzone Mentre noi Meno male La recuperiamo All in Aaaaaaai Vaaaaaai Pezzo di merda C'ha poca vita Il zorzone Ah di nuovo? Vai Seconda tran Aaaaa Oh Sembra più veloce Grazie Oh Oh Ah chi è muerto Oh Ah di nuovo Vaffan Io vado Qua O se no Muori stranzo Oh Cadi Rayman 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 Vuoi stare zitto? Rivallo testa di rapidi Infilzo col tuo stecchino Ah Si Rayman Adesso ha vinto la battaglia Oh Perfetto Che succede? Oh Vedete Ora Rayman Succede qualcosa A Rayman Guardate Non puoi essere ma chi è il re qui? Mmm Rayman Il tuo combattimento nell'arena è stato un triunfo E pensa che Reflux non aveva mai perduto T'anzito idiota Sono io il re Come premio Riceverai La potenza dei Leptis Anche se Mi strozzo a dirlo Leptis Padre del popolo Knaren Leptis Vieni Dola questo grande guerriero Il più terribile Dei poteri È Che E È Ma Ah 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 Adesso Mi chiedo che tipo di potere ti ha dato il Tetris Bene Allora ragazzi avete visto Praticamente tutto quello che è successo In questo video di oggi è stato un bel Video proprio completo Abbiamo visto la battaglia contro il boss Uno dei boss più forti del gioco E niente Io spero che questo video vi sia piaciuto E ci rivediamo ad un prossimo Video